Nessun dorme Nel modo migliore proviene infatti dal Pakistan La penna in oggetto è una demonstrator con caricamento dell'inchiostro a stantuffo La casa costruttrice è la pakistana Dollar Che fondata a Karachi nel 1954 è una delle maggiori produttrici asiatiche di materiale per cancelleria Questo modello si chiama 717i Al quale viene aggiunta la lettera T di Transparent Questa penna è disponibile anche in versione non trasparente in diversi colori Così come questa stessa versione trasparente viene venduta con la sezione in colori diversi In Pakistan la 717i è un modello iconico In quanto è veramente diffusissimo in milioni e milioni di pezzi Essendo una penna prevalentemente scolastica Come potete vedere la linea è classica Escludendo il cappuccio, il fusto ha la forma a sigaro Il cappuccio si avvita al fusto Alla sua base ha un anello metallico Mentre in cima ha un givel Tra virgolette chiamiamolo givel In realtà è un tappetto in gomma Con inciso il simbolo del dollaro La clip ha dimensioni ridotte Ed ha inciso sulla sua superficie la scritta dollar Una volta calzato Il cappuccio non ha il minimo cedimento E resta fermamente nella sua sede Il livello qualitativo dei materiali In buona sostanza si tratta di plastica Denota un livello costruttivo economico Come del resto deve essere per una penna Con queste caratteristiche E soprattutto per il costo irrisorio Al quale viene venduta Il fusto essendo trasparente Mette in mostra il sistema di caricamento a stantuffo Che sembra veramente ben fatto Noto inoltre la notevole capacità Del serbatorio dell'inchiostro Tanto più notevole tenuto conto Che questa penna è alquanto piccola Altra cosa che noto È che lo stantuffo viene già fornito lubrificato Con gasso siliconico Questo è un indubbio segno di attenzione costruttiva La carica dell'inchiostro avviene Svitando prima il piccolo cappuccio Che è sul vertice del fusto Procedendo a ruotare la ruota senza fine Come detto Questa penna è alquanto piccola A cappuccio chiuso Misura infatti soltanto 12.8 cm Chi ha le mani grandi potrebbe Non trovare comoda la scrittura Senza cappuccio Tuttavia calzando il cappuccio La penna raggiunge la misura di circa 14 cm e mezzo Rendendo abbastanza comoda La scrittura ha tenuto conto che questa penna Pesando soltanto poco più di 10 grammi E' quindi particolarmente adatta a lunghe sedute di scrittura Insomma la Dollar 717i è una vera e propria penna da combattimento Pensata per un utilizzo veramente intensivo Ma la vera sorpresa di questa penna Sta a mio parere nel suo pennino Un pennino in acciaio Con punta di iridio Secondo il costruttore di gradazione F Che nella prova su carta Che a breve vi mostrerò Ha dato di sé una grande prova Che a breve vi mostrerò Che a breve vi mostrerò Che a breve vi mostrerò Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una eccezionale continuità del flusso fanno di questa penna una delle migliori mai provate in questo canale per quello che riguarda la prova di scrittura sul campo. Vi consiglio veramente di provarla. Il link è in descrizione. Resterete sorpresi per il bassissimo costo di acquisto di questa incredibile penna. Grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto aggiungete un like e se volete essere sempre aggiornati sulle novità del canale iscrivetevi. A presto e un cordiale saluto a tutti voi. Ciao a tutti. In questo video parlerò della Dollar 717i Demonstrator, una penna stilografica molto economica di produzione pakistana. Interessante anche per il sistema di caricamento dell'inchiostro a stantuffo pistone integrato nel fusto. Vi confesso, le prime volte che ho sentito parlare di questa penna, su web o in altri video, pensavo che il nome si riferisse al fatto che costasse poco, che fosse molto economica, e venisse appunto un solo dollaro. Poi ho scoperto, facendo un minimo di ricerche, che in realtà Dollar è il nome di un'importante azienda nel settore della cancelleria, con sede principale a Karachi, appunto in Pakistan. L'azienda nasce nel 1954, quindi ha una buona storia alle spalle, come produttore di inchiostri, in un periodo in cui la stilografica era il principale strumento di scrittura. Poi l'azienda è cresciuta e di molto. Attualmente vanta un grande catalogo che comprende penna e sfera, oppure con punta in feltro, le stilografiche, matite, penarelli e evidenziatori, e tanto altro. Tra i circa dieci modelli di stilografiche realizzate da Dollar, particolarmente nota la E717i, disponibile nelle versioni con fusto colorato e finestra di ispezione per verificare la quantità di inchiostro al suo interno, o, come in questo caso, in edizione demonstrator completamente trasparente, disponibile con i colori, qui della parte terminale, diciamo, dell'impugnatura, nel gruppo scrittura, blu, nero o rosso. Ufficialmente dichiarato con pennino fine, ma adesso vedremo, insomma, nella prova di scrittura, che non è esattamente un fine, un fine. Adesso partiamo con la descrizione della penna, interamente in plastica. Prendiamo uno di questi modelli, completamente in plastica. Vediamo le dimensioni sono, da chiusa, circa 13 cm. Aperta, quindi soltanto si apre a vite, così è 11,8 cm, e calzata con il cappuccio. Messo nella parte posteriore, la lunghezza arriva a 15 cm. Ora direi di fare anche un piccolo confronto con altre penne più o meno conosciute, questa sicuramente è un punto di riferimento. Andiamo a vederla chiusa, così, in questo modo. Questa è una Lami Safari, e ovviamente si vede che è abbastanza lunga, diciamo, ha un bel margine in più. Questa qui è, ne ho parlato recentemente in un'altra recensione, è la Ginao X350. Anche questa è più lunga, è lunga quasi quanto la Safari. Questa è la Ginao più piccolina, è la 82, si vede che è una penna che assomiglia maggiormente alla Dollar, in quanto ha dimensioni esterne, anzi, addirittura risulta essere più corta. Prendiamo ora, proviamo ad aprirla. Questa è soltanto la penna con il fusto, e qui invece abbiamo il fusto della Ginao 82. Siamo lì, la Dollar è un pochettino più lunga, comunque, insomma, non è paragonabile a questa qua, che è ancora più lunga, o alla Lami Safari, che anche se risulta essere indubbiamente più lunga, insomma, come dimensioni. E devo dire che assomiglia molto alla 82, anche per quanto riguarda il pennino. Qui abbiamo la Ginao 82, che ha un pennino di misura 5, che è abbastanza piccolo. Questo qui è ancora più piccolo, come lunghezza di poco, ma soprattutto come larghezza. Se andiamo a prendere invece il pennino della Ginao X350, ci si accorge che è indubbiamente più lungo. Parliamo ora del peso. La penna completa vuota pesa 10,2 grammi, con inchiostro 11,6 grammi. Se prendiamo invece il suolo fusto, vuota 6,5 grammi, leggerissima, con inchiostro 7,9 grammi. Questa cosa però ci fa anche ricavare la differenza di peso tra una penna vuota e una penna che invece è piena di inchiostro, ed è quindi la differenza di 1,4 grammi, che per stima, insomma, possiamo, diciamo, più o meno stimare che l'inchiostro al suo interno sia 1,4 millilitri. Praticamente è quasi il doppio, quasi come due cartucce standard internazionali. Questa è la penna, come abbiamo detto, interamente in plastica. È una plastica semplice, stampata, senza particolari fronzoli o lavorazioni. Si apre a vite con, devo dire, veramente poco, saranno tre quarti di giro, sì, con tre quarti di giro effettivamente si apre. Questo è il cappuccio, qui la parte della filettatura, una veretta, più che altro per scopo estetico, ma che può effettivamente rinforzare il cappuccio per evitare le facili rotture. Non ha un controcappuccio all'interno. Questa è la parte superiore con il simbolo, vediamo se la si vede anche in questa rossa, se si riesce a mettere a fuoco, con il simbolo del dollaro, che è il simbolo dell'azienda, e una clip metallica, anche qui con scritto dollar, e una lavorazione con due righe che tendono a formare quasi un vaso, una clessidra, che si stringono all'interno. Questo è il gruppo scrittura con la parte plastica per l'impugnatura. Abbiamo visto il pennino con la scritta Iridium Point, piccolino, ma insomma visibile, è comunque un bel pennino. La parte principale è l'inchiostro all'interno del fusto. Si va a svitare questa parte posteriore per accedere a questa, diciamo, manovella che permette di andare a far avanzare e ritirare su il pistone. Portiamolo fino al massimo, così per scaricare completamente la penna, e così per tirarla su. Io non amo molto le penne con caricamento a pistone e stantuffo, però in questo caso, col fatto che veniva poco e avevo comunque voglia di provarla, ho fatto un'eccezione e l'ho acquistata, per vedere anche effettivamente come funziona e come può una penna che costa così poco avere anche un buon meccanismo di carica dell'inchiostro al suo interno. Ora direi che possiamo procedere con la prova di scrittura. Questa è una carta Rodia, però forse sarebbe il caso, dal momento che magari non tutti usano giornalmente la carta Rodia per i propri appunti, proviamo a usare una carta normale. Questa è una normalissima carta da stampante, peraltro una risma molto economica. Questa qua è quella con inchiostro nero, all'interno c'è un Waterman nero, abbiamo detto che si chiama dollar, ok, 717i, Inc. Waterman. Come potete vedere, qui l'inchiostro è ben visibile, abbastanza copioso, devo dire che ne dà tanto, ma il tratto è ben lontani dall'essere fine, come dichiarato, io lo definirei assolutamente un medio, anche abbastanza abbondante. Vediamo ora questa qui con l'inchiostro blu. Questo inchiostro blu è un classicissimo Pelican 4001 Royal Blue. dollar, 717i, qui si vede proprio che l'inchiostro ce n'è tantissimo. questo inchiostro è il Pelican 4001. non ha problemi di flusso, non ha false partenze in qualunque direzione, si avverte un po' di feedback, il pennino non è scorrevole sicuramente, ma non è che pattini proprio sul foglio, effettivamente ha un certo feedback, si avverte su questa carta perché è un pochettino più ruvida. andiamo ora a provarle sulla carta, sempre la nera per prima, sulla carta Rodia, vediamo che qui effettivamente il feedback è molto minore, questa, come abbiamo detto, è sempre la dollar, e anche il tratto si restringe un pochettino, il che è una cosa buona, però non è come ho detto che noi andiamo sempre a usare la carta Rodia, magari nei taccuini, anche nei stessi taccuini Rodia che io posseggo, c'è la carta Claire Fontaine sopra, posso usare l'MD Paper, della Midori, posso usare la Tom & River e anche delle carte comunissime, ma la Rodia normalmente non la uso tutti i giorni più che altro solo per provare le stilografiche, questo abbiamo detto che è un Waterman, nero, adesso andiamo un po' a vedere quest'altra blu, come ho detto sulla Rodia, il tratto è un pochino più fine, quindi non dico che sia proprio un fine vero, però è perlomeno accettabile, 717i, e questo è un Pelican 4001, poi uno si può andare a divertire, a fare anche dei disegnini, vediamo un po' qualcosa del genere, così, ecco, dollaro, sì, qui scorre che è un piacere, devo dire che la penna si comporta molto molto meglio su una carta così liscia, davvero interessante, come ho detto non ha nessun salto, nessuno skipping, nessun problema di flusso, ne ha tanto, anzi, su questa carta che l'assorbe meno rispetto a quella da stampante, devo dire che è un flusso decisamente abbondante, parliamo del prezzo, dove acquistarla, allora, la risorsa forse più importante in tal senso è eBay internazionale, dove ho visto che si può prendere, con spedizione però dalla, si paga la spedizione, viene dal Pakistan, arrivano a costare anche nei pacchi da 10 o 20 pezzi, anche 0,7 dollari l'una, quindi meno di un dollaro, però poi c'è da pagare la spedizione, invece i pacchetti con la spedizione compresa, sono di circa, diciamo si va a pagare da 1,5 a 2 dollari, per ogni singola penna spedizione compresa, ma io non volevo aspettare tanto, quindi l'ho preso su eBay Italia, ho trovato un venditore, non so se quando vedrete questo video sarà ancora attivo, se ce l'avrà ancora disponibile, comunque si chiama Cap65, è un venditore italiano, mi le ha spedite con tempi decisamente rapidi, così ho avuto modo di provarla subito, mi è venuto la voglia di acquistarla, normalmente vengono 4,5 euro l'una, però andando a prendere più pezzi insieme, il prezzo scende a meno di, diciamo inferiore a 3 euro l'una, è abbastanza buono, poi insomma mi ha trattato bene, c'è stata una buona comunicazione, mi sono trovato bene, poi vedrete se in futuro magari, da questo venditore o da altri che sono disponibili, è una penna che, ecco, l'ho pagata e diciamo 3 euro, poco meno, e arriviamo un po' alle conclusioni, sono valide? Beh, secondo me sì, sono delle penne interessanti, magari per chi ama poi questo sistema di caricamento con pistone stantuffo, sono disponibili in tre colori, nella versione demonstrator, oppure nelle versioni, diciamo con il fusto completamente colorato, ma c'è una finestra di ispezione, che permette di verificare quanto inchiostro è presente all'interno, il prezzo non è elevato, si comportano bene, si vede che sono penne economiche, la plastica è veramente semplicissima, stampata, quindi non ha quell'aspetto della penna costosa, che magari anche questa non costa tanto di più, però già si nota che è un po' più elegante, è una penna di un livello diverso, anche questa qui che è una Ginau 82, quella era la Ginau X350, sono comunque penne che hanno sicuramente una diversa estetica, queste si vede insomma che sono economiche, però alla fine funzionano, ed è la cosa più importante, e non è scontata, a volte ci sono anche penne che costano molto di più, e non hanno queste prestazioni, problema come ho detto prima, su una carta normale, come questa qui, tende ad avere un tratto indubbiamente più grande, e quindi se vi piace un bel medio, anche bello abbondante, magari potrebbe fare per voi, altrimenti sappiate che è preferibile utilizzarla su carte specializzate, che tendono a mantenere un tratto un po' più sottile. Arrivato a questo punto, io spero di aver fatto un buon servizio con questo video, mi auguro che possa risultare utile, vi saluto, vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale, quindi arrivederci, a presto, ciao a tutti. Ben ritrovati cari amici da Stilorso, oggi parliamo di una penna iper economica, forse la penna più economica sul mercato, sicuramente la penna a stantuffo più economica sul mercato, ossia lei, la famosa, la cereberrima, la famigerata, dollar 717i, eccola qua, dollar pen, vedete, clip marchiata, pennino iridium point, e caricamento, o dite o dite come dicevamo prima, a stantuffo. Plastiche, ovviamente ultra cheap, ma parliamo di una penna che costa 2-3 euro, non 4 euro, ne comprate due, insomma, proprio super economica, prodotta da questo, grande, da questa grande ditta, pakistana, la dollar, che a differenza di altri produttori cinesi, ha un suo sito internet, aggiornato, in cui ci raccontano molto della loro qualcosina, non moltissimo, della loro storia, ma ora andiamo a vedere la penna un po' più nel dettaglio. Eccola qua, pennino iridium point, forma vagamente simile a quello dell'ami, ma ovviamente non è l'ami, feeder in plastica, tutto il gruppo scrittura rimovibile, con semplice pressione, caricamento con questo pistone in plastica, che si aziona dopo aver svitato questo tappino, questo blind cap in plastica, plastica come vedete ovviamente dalla sezione super economica, stampata, eccola qua. Ed ecco qui il nostro pistone, che si muove abbastanza morbidamente. Per cosa è adatta questa penna? Per divertirsi con gli inchiostri, per divertirsi e smontarla, per prendere confidenza, magari anche con altre pratiche, infatti vediamo se scrive bene questa penna, non ci facciamo niente, se non scrive bene, proveremo a fare un piccolo tutorial sull'uso del micromesh, ma magari siamo fortunati e scrive bene. Vi dicevo, il pistone si muove abbastanza bene, ma abbastanza morbidamente, teniamo sempre conto di una penna che costa 2 euro. Eccola, plastica, ovviamente super cheap, come quella delle preppy, ma forse anche peggiore, comunque siamo lì, non è che ci sia tanta differenza. Il grip, va detto, è abbastanza ergonomico, cioè fa sì che la penna possa essere presa bene in mano. Però adesso bando alle ciance e andiamo un pochino a inchiostrarla con un inchiostro che non mi fa impazzire, però insomma ce l'ho. Questo Diamond Asa Blue. E vi dicevo, il dollar si reputa il più grande produttore di articoli per la cartoleria di tutta l'Asia. Ora non so se questo sia vero, è impossibile da verificare, per loro sul loro sito. Diciamo, sono molto orgogliosi di questi, producono evidenziatori, pennarelli, veramente tutto quello che serve. E tra le stilografiche producono questa, ma non solo questa, producono anche molte altre. A dire vero, tutti i modelli abbastanza entry level, ovviamente dedicati a un pubblico, diciamo, di studenti. Ecco la penna è inchiostrata, la penna non è lavata, e questa penna qua non la lavo, la voglio provare e basta. Ok? E andiamo un po' a vedere come scrive questa, questa dollar, questa fountain pen dollar. Come al solito abbiamo due tipi di carte, carta comune per fotocopie e carta Rodia. Voglio essere generoso, la proviamo prima su carta Rodia, magari questo pennino è morbidissimo, sarà una sorpresa, chissà. Andiamo a fare uno zoom un pochino più da vicino. Ed eccoci su carta Rodia. pennino è in taglia unica, un pennino fine, inchiostro, inchiostro, diamine, asa blu. Allora, cosa dire di questa penna? è una penna che è di dimensioni molto piccole, non è una penna grande, può essere postata. Il flusso, il flusso dai, non ci possiamo lamentare, la penna tutto sommato inchiostra, inchiostra direi bene, no no, inchiostra, inchiostra. il pennino, allora, non è il miglior pennino, ovviamente, per fortuna, diciamo, che abbia mai provato, però vi posso dire che non ha particolari difetti. E adesso dirò un'eresia, questo, poi magari, ne ho anche un'altra, perché queste vengono prese così in confezione, questo pennino scorrevole, scorrevole, però, vi dice, siamo su carta rodia, non siamo su carta comune, vediamo un po' su carta comune come scrive, carta comune da fotocopie dollar pen 717 i pennino fine. Allora, su questa carta qui fa un pochino più fatica, sento un po' più di feedback, come normale che sia, avete visto, qui ho alleggerito la pressione e la penna non ha scritto, su questa carta, insomma, l'inchiostro lo dà sempre, però il pennino non va molto d'accordo con questa carta. Non voglio dire che sia ruvido, non ruvido, ma si sente molto di più il feedback. La continuità di flusso, vediamo un po', non è proprio ottimale, vedete? Vediamo quando si aumenta un po' la velocità, insomma, dai, in definitiva, in definitiva, tiene, vediamo, proviamo un po' una scrittura veloce, se proprio fare uno scarabocchio, inchiostro, asa, blu, insomma, vedete qua, c'ha avuto, ecco qua, pure una falsa partenza, insomma, però tenete conto che la penna non è lavata, ho dovuto provare proprio in condizioni di stress, quindi magari c'era qualche, c'era qualche residuo, eh, la proveremo più avanti, però qui, su carta, Rodia, anche qui se si aumenta la velocità, insomma, scrive, diciamo dai, benino, in maniera accettabile, ma sì dai, scrive diciamo in maniera accettabile, nulla più, però tanti di voi mi diranno, ma però non è fatto, non mi ha fatto vedere quanto è lunga questa penna, allora questa penna è circa 12 centimetri, ve la faccio vedere in confronto a qualche penna che già conoscete, che abbiamo già visto sul canale, questa è la Sailor 1911 Compass, che non è certo una penna grande, ma è più grande, questa è la Twisby Go, che è più grande, insomma, quindi una penna abbastanza piccolina, poi con cosa la vogliamo vedere, vediamola con la sua più diretta concorrente, direi no? Con la sua più diretta concorrente che la Platinum Preppy, e la Platinum Preppy è decisamente, decisamente più grande, vediamo l'essenza, senza cappuccio, questa la dollara al cappuccio a vite, e sì, decisamente la Preppy è più lunga, non moltissimo, eh, non moltissimo, ma è più lunga, scrive meglio la Preppy o scrive meglio la dollar? Scrive meglio, ovviamente, la Platinum Preppy, che sono 0,2, con il Bay State Blue. Non stateci a pensare un attimo, è decisamente meglio la Platinum Preppy. Questa è proprio da buttare nella monnezza? È proprio scena? no, non è proprio, o dire, siamo un po' veramente a livelli bassissimi, quindi, fare i pro e i contro è davvero difficile, però, ovviamente il costo, costa niente, costo, a due euro cosa vuoi, però, questa costa poco di più, un po' più duro, sembrerebbe, vabbè, però, c'è il caricamento a stantuffo, che permette un'ottima capacità di inchiostro, circa 1,5 ml di inchiostro, ci potete mettere, tra e contro, tra e contro, flusso non sempre eccellente, o meglio, per la scrittura veloce, non mi pare che sia adatta, se il chi veda normalmente, alla fine, alla fine ci può stare, tra i pro cosa mettiamo? Dai, dai, mettiamo, cosa possiamo mettere? Vedete, anche qua, c'è avuto un piccolo problema, flusso non sempre eccellente, possiamo dire, penna, ideale, per, sperimentare, perché con questa, non, insomma, voglio dire, non perdete nulla, costa meno di una cinese, o come una cinese, ma forse anche meno, e quindi non perdete niente, tra e contro, che dire, fragile, io direi che questa è una penna, un po' fragilina, un po' fragilina, detto ciò, è proprio da sconsigliare, ma no, non è da sconsigliare, è una penna, così, simpatica, trasparente, vedete il, il pistone, la penna tra l'altro, poi smontabile, oltre al gruppo scrittura, si può smontare anche, si può smontare anche, il fusto, il pistone, quindi, vi permette un po' di giocare, di prendere confidenza, prima magari di passare a penne più importanti, prima magari di, avventurarmi, avventurarvi in spese più, più importanti, più, più, più grosse, quindi, la consiglio per esperimenti, solo per esperimenti, diciamo, concediamoci per la quotidianità qualcosa, di maggior qualità, non necessariamente senza spendere, l'equivalente di un rene, ma, concediamoci qualcosa di meglio, per scrivere i nostri diari, per scrivere i nostri appunti, e queste, teniamole per divertirci, per provare nuove cose, e penso proprio che, su questa penna, o sulla sua gemella, andremo a fare un video tutorial, un video tutorial, sul micro mesh, come usarlo, senza fare troppi danni, perché qui alla fine, anche se facciamo qualche danno, non succede nulla, bene, vi invito ad iscrivervi al canale, se il video vi è piaciuto, ci vediamo al prossimo video, un grande abbraccio, e alla prossima, da Stilorso. In realtà no, è arrivata la dollare, in pochi giorni, un altro po', è arrivata la dollar, cioè, che cos'è la dollar? La dollar doveva venire, in teoria, da, una penna demonstrator, indiana, ma in realtà, questa è arrivata dall'Italia, e va bene, dice, ci sta, certo che ci sta, accidenti, se ci sta, meno male, vabbè, allora, tutto il discorso sui converter, questa è la classica, cioè, ma come li fai, sti video, ho capito, ah, una penna che costa veramente, pochi euro, pochi euro, eccola qua, allora, svitare, ed è, una delle penne, diciamo, a stantuffo, che in teoria, dovrebbero costare di meno, poi, fra le stilografiche, costi meno, sicuramente, le cinesi, però anche questa, e noi eravamo già pronti, per fare, tutta un discorso, sulle, sulle, queste almeno, costa due, questa è una volta, costava due dollari, veniva dall'India, è una penna scolastica, chiaramente, abbiamo scelto il cappuccio, blu, quindi, magari la trovate a quattro dollari, si svita, vedete il fondello, e poi, ha fatto una bellissima, recensione, stilorso, su questa, stilografica, non credo, che l'abbia promossa, per tutta una serie di motivi, allora, a sto punto, noi andiamo a vedere, dobbiamo provarla, andiamo a vedere, il, qualche cosa, addirittura, c'è il cappuccio, neanche, a pressione, ma proprio a vite, ok, va bene, allora, andiamo a fare, lo scimmiometro, sulla, su questa, one dollar, va bene, pagata, quattro euro, perché viene dall'Italia, ma se la prendevamo, da un'altra parte, magari, due euro, due euro, va bene, dai, mostro, qualunque cosa, che sia, andiamo a fare, lo scimmiometro, su sta, one dollar, one dollar, allora, 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 iniziamo a caricarlo, visto che sto provando, in questi giorni, in questo periodo, un inchiostro della pilot, che ho già provato, con una, stilografica online, adesso, la vorrei provare, con, allora, mi dicono, di agitare, perché ci potrebbero essere, delle sospensioni, allora, siccome, la, one dollar, questa dollar pen, è, è una penna, diciamo, che, è una penna, sì, oltre ad essere economica, ce l'ho messa, proprio una goccia, perché, se no, credo che sia, la, la ventesima, stilografica, che sto, che sto, inchiostrando, allora, vediamo un pochino, allora, questo, usiamolo, per, one dollar, poi, dollar pen, dollar pen, chi me l'ha, inviata, in busta, chiaramente, ah, questa, va, va usata, impostate, è così leggera, che non, perché, se no, vedete, rischiate, veramente, state al limite, siete al limite, siete al limite, ah, il pennino, stranamente, sarà anche una scolastica, fatta in India, per, per gli studenti, affermatemi un attimo, perché, mi stavo preparando, il latte caldo, non, non uso caffè, aspettate un attimo, allora, altri due minuti, certo, stiamo facendo, qualcosa, di, allora, di poco pulito, di poco pratico, ma, stiamo scrivendo, su una carta, su una busta, in pratica, ma, per vedere, mi rendo immediatamente conto, ok, allora, andiamo, ragazzi, sei pronto? Eh, speriamo, dai, ma, che facciamo, adesso, se lo mettiamo per così, è più, lo vedete meglio? non lo so, che volete fare? Sì, dai, lo vediamo, allora, dai, allora, pare un pennarello, e stiamo scrivendo, su carta, scimmiometro, mannaggia, a Maurizio, e a Carolina, che hanno inventato questa, questa cosa, eh, ok, scimmiometro, prima votazione, che abbiamo, io non mi ricordo neanche più, da zero a tre, allora, zero è il minimo, tre è il massimo, fusto, ammazza che fusto, ve lo ricordate? Fusto, e finiture, e finiture, robustezza, spessore, materiali, sezione clip, allora, materiali, sezione clip, certo, il caricamento, sono riusciti a fare, a due euro, un, che è anche un euro, poi, eh, allora, questa mi sembra, che sia arrivata, a quattro euro e cinquanta, questa, questa qui, su ebay, lasciate perdere, che magari, che ne so, in India, costa anche molto di meno, eh, su quelle, quattro euro e cinquanta, due euro e ottanta, erano di, praticamente, di, di, di spedizione, c'è scritto, proprio, due euro e ottanta, mettici poi, mettici poi, un venti, un venti centesimi, per una, per una busta, per una busta così, che può anche costare di più, siamo già arrivati, a tre euro, quindi, rimangono un euro e cinquanta, tenete presente, che c'è anche un minimo, e beh, si prende a meno cinquanta centesimi, per, per piccole spese, e allora, un euro, un euro, cioè, questo avrà guadagnato, cinquanta centesimi, cioè, vi rendete conto, chi ci ha guadagnato, più di tutti, sicuramente, le poste italiane, allora, fusto e finiture, fusto e finiture, fusto e finiture, è plastica, la robustezza, tutto sommato, cioè, se la pigliate a martellate, qui c'è, il cappuccio, potete prenderlo, blu, bordeaux, un altro colore, guarda, sicuramente non è zero, non sarà una plasticaccia, neanche una, una plastica, dice, non sarà resina preziosa, sezione, clip, materiali, guardi, io un due glielo devo dare, non va a vedere che, che suona al scimmiometro, ma sparo, però, comunque, allora, pennino, pennino, e conduttore, io, guardate, mettendo pennino, e conduttore, elasticità, flessibilità, flusso, materiale del pennino, io direi anche il caricamento, allora, su me, pennino, conduttore, c'è un pennino, devo essere sincero, scorre che è una, ma questo scorre che è una bellezza, c'è meglio da ridere, come cazzo, vanno a fare, ho detto, bip, speriamo di ricordarmi che devo togliere, devo mettere un bip lì, scusatemi, va bene, allora, questo andrebbe a due, però, solo per il fatto, che viene da starnutire, stai facendo una recensione, che è pietosa, solo per il fatto, eh sì, ecco, speriamo che non è influenza, il covid l'ho già preso, è andata, vabbè, ci sono le ricadute, vabbè, facciamo, incrociamo le tira, ah, solo perché è a stantuffo, merita un più uno, quindi, questo pennino, bello, io, gli metto tre, cioè, non ci possono essere i mezzi, o due o tre, sensazione di scrittura, allora, sensazione, di scrittura, poi questo video, io chiederò a Stilorso, di, di, nelle prossime, il prossimo mese, non è che deve essere domani, insomma, fra due o tre mesi, una settimana, non so, il prossimo video, decidiamo insieme, di mettere questa recensione insieme alla sua, e proporla poi insieme, perché la sua, è sicuramente, fatta meglio, io, vedete, faccio solo lo scimmiometro, quindi, è proprio una, un'impressione di scrittura, la mia, sensazione di scrittura, fluidità, scorrevolezza, attrito, attrito di scrittura, morbidezza, feedback, feedback, ragazzi, io, rannaggia la miseria, va a farlo, di, ma vorrei dire, questa, scrive, scrive pure sulla plastica, guardate, sulla plastica, questa è plastica, scrive pure sulla plastica, tra parentesi, con un inchiostro pilot, sarà l'inchiostro, questo, il black, c'ha un nome, survival, pilot black, questo è, dice, ma perché parli così? Perché quando si parla giapponese, devi avere, ve l'ho detto, e dobbiamo andare in Giappone, con, con Maurizio Capriccio, e ci portiamo pure Tribbo, che è il nostro professore, poi tutti gli amici, ben vengato, quindi questo che cos'è? Un pilot black, survival, mortaccia, sensazione di scrittura, raga, io se non sapessi, che questa è una penna, ma se questa fosse, invece di plastica, così trasparente, fosse una penna, poi addirittura, vedi, avvitabile, con il co, raga, io gli metto tre, mi spiace, perché cazzo, dice, ma tu stai, non voglio essere cattivo, oh, poi, stilorso, fallo tu, sto scimbiopata, stilorso, e vediamo un attimo, se le mie sensazioni, sono uguali alle tue, allora, bilanciamento, bilanciamento, e comodità di scrittura, e comodità di scrittura, io intanto scrivo, approfitto anche per pensare, è una penna molto leggera, non ha problemi assolutamente, di bilanciamento, voi sapete, che le penne, a santuffo, possono essere, pesanti, indietro, questa, guardate, com'è corta, questa è l'unica cosa che va appostata, ma è un bene o un male, essendo così corta, gli scolari se la possono portare dove gli pare, forse per me è un pochino, come si dice, ha un diametro, un po', per le mie mani, per le mani, questa per una donna è perfetta, questa per la borzetta di una donna, 2 euro, ma mamma mia, guardate come scrive, guardate come scrive, guardate, oh ma va via, sulla, ah, permane anche sulla, il tempo che si asciuga, sulla plastica quella, mazza, fammi provare un attimo, fluidità, eh, c'è pure la fluidità, ma questo dipende, sicuramente da cui si inchiostrano, pile of black, survival, vabbè, e allora che vuoi dare, ma io non la sento proprio in mano, questa stilografica, per quanto è leggera, è super bilanciata, vabbè, allora, che te devo dire, due e mezzo gli darei, però non si può dare, tre, dai, mamma mia, io devo essere più cattivo però, non vediamo se me ne accorgo, allora, originalità, origina, poi sono stato parco anche nel caricamento, ho messo veramente una goccia d'inchiosso, perché la volevo, originalità, design, materiali, forme, colori, l'originalità, devo essere sincero, non è che sia una copia, è corta, è particolare, sicuramente non, però non gli voglio, io devo essere no cattivo di più, se no questa veramente rischia di prendersi lo scimmiometro, questa rischia, poi in realtà, eh, per due euro la comprate tutti, dai, la metto a due, se no, se no poi, la presentazione ed estetica della penna, confezione, marketing, eh, ma che ti devo dire, vabbè, scrivile un tanto, così ci pensi, presentazione, presentazione, ed estetica, ed estetica della penna, ed estetica, estetica, eh, madonna mia, dice, vabbè, l'hai già detto, eh, allora, presentazione ed estetica, due, dai, due, no, perché se no, veramente, se siamo un po' il pensiate che dice, allora, reperibilità e assistenza, qui, reperibilità, e assistenza, allora, io l'ho trovata su ebbe, mi è arrivata dopo, due, tre giorni, la roba della Cina, ci mette un mese, un mese e mezzo, dipende, assistenza, ma che ti vuoi assistere qui, due euro di assistenza, cioè, che gli vuoi dire, eh, ah, io, secondo me, tre, tre, perché la trovate dovunque, dai, su Aliexpress, immagino, no, allora, poi, eh, rapporto qualità prezzo, qualità prezzo, qualità prezzo, e beh, qualità prezzo, con un pennino, che scrive sulla plastica, la mia volta, questo, però, scrive perché, grazie a questo, inchiostro, ce lo ripeti, ho capito, però, è un, allora, I'm too small, I'm a pile of black, mo', ve l'ho detto, vabbè, rapporto qualità prezzo, eh, quattro, il massimo, tre o quattro, quanto è il massimo, ma che cappellina gli stai dando, da zero a quattro, io non lo so, che stai combinando, qual era il massimo del rapporto, quattro, no, quattro è il massimo, eh, non sono andato bene, ma, per fortuna, quattro è il massimo, vabbè, eh, che dici, e che devo dire, corre, scorre, facciamo il, ma, innanzitutto, ricordiamo, non mi ricordo più, a quanto suona, lo scimmiometro, perché non me lo ricordo più, allora, il massimo è 32, no, ma è 32, sì, 4 per 8, 32, allora, eh, e ho capito, ma, fammi leggere, ce l'ho qui davanti, la scheda, a, quando è che suona lo scimmiometro, oddio, non me lo ricordo, ah, eccolo qua, allora, vediamo, a 24, 5, 8, 3, 11, 11, 13, 15, 15, 18, 22, guarda, ci è andata vicino, ci è andata vicino, eh, non suona, chiaramente, cioè, forse non è la penna, eh, che voi ci perdereste la testa, per acquistarla, allora, lo rifacciamo a sto conto, eh, questo è, al fusto, io ho dato due finiture, proprio perché è una penna economica, ma ho visto di molto peggio, sarebbe potuto essere un 3, anche nell'originalità, l'estetica, vabbè, è quella che è, non è semplice, a me poi non piacciono, io ho dato punto basso, perché a me non piacciono, le, le demonstrator, queste trasparenti, comunque 5, 8, 3, 11, 13, 15, 18, 22, dai, non scatta lo scimmiometro, dai, no, veramente sarebbe stata una cosa, una cosa mi avresse, mi avresse, quindi vedo che lo scimmiometro comunque funziona, perché anche funziona, è anche vero che abbiamo dato dei parametri molto bassi, Carolina ha chiesto 24 per far suonare, da 24 in su suona lo scimmiometro, quindi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, 22 non suona, però comunque rimane, pensavo peggio, stilorso, mi avevi, mi avevi detto che, invece è carina, l'ho dato retta a te, l'ho presa, e dopo due giorni è arrivata, però pensavo molto peggio ragazzi, pensavo molto peggio, io non so se dipende da questo, inchiostro, che inchiostro è questo, è un Pilot Black Survivor, ah, va bene, proprio perché l'hai detto tu, però effettivamente il pennino, vediamo pure il reverse, è un pennarello, sto scrivendo su carta fatiscente, fatiscente, puoi scrivere un attimo su una carta un po' più decente, un Claire Fronten per esempio, andiamo a vedere, un Claire Fronten, sei rimasto male che non ha suonato lo scimmo, no, sono pure contento, che ti devo dire, devo essere anche contento, allora Claire Fronten, che pen è questa, oddio, dollar pen, costa più la spedizione, che tutto il resto, su questa carta, chiaramente non spiuma, e il tratto è sicuramente, è una goduria comunque, questo ti fa vedere che anche i pennini così, decisamente economici, questo sembra quasi un lami minuscolo però, un mini lami sembra come il pennino, questa è divertentissima, voglio provare anche su questo altro tipo di carta, chiaramente non provo neanche a premere, non c'è variazione di tratto, per sua fortuna, perché così i ragazzini indiani possono scrivere, però veramente bello, bello, no vabbè dai, non ha suonato lo scimmiometro, sono contento, perché sennò sarebbe stata un'onta per lo scimmiometro, però l'ha sfiorato per poco, per due punti, oh fatelo voi, sta prova, dice ma vale la pena acquistarla, ma questa, sì, se la trovate, prendetela, insomma, ma chiaramente rimane, no rimango molto sorpreso dalla scorrevolezza di questo inchiostro, allora magari fra qualche tempo la riprovo con un altro inchiostro, e vediamo come va, per il momento è tutto, buon Faber Castle, scegliete il colore, potete scegliere il tappo, io l'ho scelto a blu, ma mi pare che c'era a bordone, altro nera, non mi ricordo, insomma, ma però guardate, ha preso, ci sono penne stilografica che costano molto di più, che hanno preso voti anche inferiori, assolutamente, assistenza, io non so manco se esiste un'assistenza per la penna del genere, però è carina, cioè questa è una penna che se l'acquistate, già sapete come funziona un caricamento a stantuffo, cioè, e lo vedete in azione, tra parentesi, io adesso l'ho caricato con questo inchiostro, che cos'è questo inchiostro? È un Palt Black Survivor, ma immaginate con degli inchiostri belli, colorati, un bel azzurro, un bel vinaccia, bordeaux, no, un barolo, io sono convinto che Ernesto sappia scrivere anche con il vino, cioè, lui sa scrivere con qualunque strumento, ma secondo me, io l'ho visto scrivere con i cucchiaini da caffè, ha scritto Riccardo, con un cucchiaino, quindi figurati se c'ha paura, no, però dice, proprio con il vino, e beh, gli ho visto fare degli inchiostri con le foglie, io non so quale albero, mi ha detto che non si può dire, no, perché sono stagionali, legni, cose particolari, perché fa pure degli inchiostri, fa degli inchiostri assolutamente, anche poco acidi, anche poco acidi, assolutamente, bello, va bene, buon Faber Castel a tutti, un abbraccio, vi voglio bene, dollar pen, dollar pen, 71 71 demonstrator, fun tan pen, io più di questo, su ebay lo trovate da Luca, da Luca, mi pare che a Pavia, addirittura se, è a Pavia, oddio, Luca le vende queste, PV, che è Pavia ragazzi, mi sembra Pavia, sì, dai, casa Tisma, addirittura se andate a casa sua, a casa sua, insomma, dove c'ha, non so se era cartoleria, che cosa c'era Luca, non posso fare bene questioni di privacy, ma le trovate, così risparmiate pure le, le spese postali, a sto punto ve ne comprate tre, con tre tappi diversi, c'è poi, e poi le regalate, i bambini, quello che vi pare, ma, ve le portate appresso, queste ve le portate appresso, veramente, per tutta la vita, saranno pure, dollar pen, che costavano un dollaro, però, un abbraccione, alla prossima, buon Faber Cassano a tutti.